Fatti vedere Non sei una patta? Non sei una patta? Che hai fatto? raccogli dai non la faccio la musica tutti preparati? ma cosa faccio? 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 e e e e e Vieni, che la fai? Sto riprendendo con altre camere, stai in sorriso. E' la persona più grata che abbia conosciuto da quando sono in servizio. Mi fanno ancora gattoni. Qu'è? Grazie a tutti. 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 Perché ti da il cucullo? E la cucullo? Cosa stai facendo? Grazie a tutti. Qua, così? E... Grazie a tutti.